E' concessa un'autorizzazione a Trattarenza in Italia alla madre che nel corso degli anni ha mostrato una comprovata qualità di accudimento delle figlie minori, testimoniato dal percorso di inclusione sociale e scolastico di queste ultime. Tale elemento induce pertanto a ritenere che un eventuale allontanamento dall'Italia della madre verrebbe a determinare nelle figlie un danno certo al processo di costruzione dell'identità personale, sinora condotto in maniera promettente ponendo l'intero nucleo familiare dinanzi all'alternativa ugualmente pregiudizievole o di una separazione dalla figura materna, di durata imprevedibile, o di rientro in un paese a cui le minori pur cittadine sono sostanzialmente estranee.